Secondo me non è giusto, comunque perché per far vivere un po' la città anche di sera, io non ci riesco, però ci sono quelli che escono, di conseguenza un giudizio mio direi che sarebbe sbagliato. Certo che bisogna fare i parcheggi, però in alternativa a limite non so, però non vedo una soluzione. È un po' assurdo, penso che devono sentire i negozianti, non possono decidere così, in base a quale statistica, non si sa, perciò lo trovo un po' assurdo. Però metterei i pulmini gratis, così chiudi tutto. Che venire in macchina deve sperare che migliorino i servizi pubblici. È una speranza? Le due cose vanno assieme, deve fare pressione perché non si può riaprire la città, le macchine, che è una demenzialità. È anche vero che bisogna incentivare i servizi. E chi vuole arrivare in macchina? Il parcheggio a fuori dove si può, dovrebbero ampliare, fare dei parcheggi e delle navette per servire di più il centro. C'era una mazzata per il commercio? Ah sì, senz'altro, già sono metà i negozi chiusi. Non so, non capisco, sotto il salone praticamente ci sono negozi vuoti. Qui è vuoto, è vuoto dappertutto. Sono d'accordo che gli affitti saranno alti, ma a un certo punto devono aiutare sta povera gente. Quanto all'ipotesi di un ticket da 5-10 euro per entrare in città con l'auto, ipotesi avanzata nella proposta della Giunta, non convince. Voi credo che non sia opportuno.